Ciao a tutti quanti, ragazzi, io sono DuelTube Channel e spoiler di rivale di Ixalan in maniera sottotono e melanconica. Dunque, il video di oggi doveva parlare delle carte spoilerate ieri, che non ho fatto alcun video perché mi sono addormentato. Ma va bene. Io dovevo essere un video incentrato sulle figate tribali di rivale di Ixalan, appunto, un po' inteso come la rubrica Building Around, che è la vostra rubrica preferita, non so, e un po' come una considerazione generale su quello che il set ci sta dando. Non l'ho ancora girato, lo farò adesso, ma non lo pubblicherò subito perché vorrei le immagini in italiano delle carte, un po' perché a me piace. E' nessun italiano e quindi ci tengo a mettere il 90% almeno delle immagini in italiano, nella mia lingua. Un po' perché comunque so che magari alcuni di voi l'inglese non lo masticano perfettamente e quindi arriverà domani, probabilmente. Quindi oggi manteniamo l'ottica del Building Around con un mio monologo shallow, proprio intranquillata, in cui tiro le somme sulla meccanica dell'ascesa. Allora, ne avevo già parlato nel video, quello sulla fame di Vona, però ho avuto modo di ripensarci, non so, ci ho dormito sopra, ho lasciato passare un po' di tempo, e ho ripensato a quello che avevo detto e a quello che avevo letto. Una delle cose che mi era rimasta impressa negativamente di questa carta e di questa meccanica era il fatto che molta gente online la descriveva come un'altra meccanica non interattiva, esattamente come quella delle energie, che adesso sta veramente tanto monopolizzando il meta dello standard. E no, non sono d'accordo. Sul fatto che non ci sia interattività, sì, ok, quello è vero, ma che sia un qualcosa di negativo o comunque opprimente come l'energia, no, per niente è d'accordo. Anzi, mi sono ritrovato a ripensare che sia quel tipo di meccanica, personalmente che io trovo divertente, come all'epoca di Teros, lo fu la devozione. Cioè, ragazzi, la devozione per me è stata una figata ottenere bonus e effetti, o mana, tipo con Nictos, in base ai simboli di mana sui costi di lancio che riuscivo a mettere in gioco, e contavano i permanenti, non solo le creature, e più ne avevi giù, più vite prendevi, o più mana facevi, o più danni sparavi, tutto quanto. Certo, la devozione va molta più interazione con l'avversario e comunque con i giocatori. Però voglio dire, lo scopo dell'ascesa è raggiungere le dieci carte, i dieci permanenti, in gioco, per ottenere dei bonus. Ad esempio, il bonus di questa carta qui, un bittante sia da limited che da standard, non da poco, oppure una comunaccia del cazzo, tipo questa, che, vabbè, insomma... Dico, raggiungere l'obiettivo della benedizione della città e dei dieci permanenti in gioco non è mica così non interattivo come la gente aveva detto. Ci sono carte che spedinano, mettono in gioco tesori, vampiri, tretoni, mettono... ti fanno giocare le terre, giocando le terre aumentano i permanenti, ci sono diversi permanenti non creature che magari a livello di limited hanno un certo impatto, in costruito ce l'hanno molto meno, dipende anche un attimo su di che carta stiamo parlando e dove si giocherà questa meccanica, però voglio dire, dover arrivare ai dieci permanenti per avere giù la benedizione della città non è come avere un cazzo di foglietto di carta su cui segnarsi col dado, i segnalini di energia. È una roba... un pelo più lenta, se vogliamo, e che richiede una certa costruzione indietro. Ripeto, non sarà... non sarà la costruzione del board come lo era per la devozione della... di Teros, però, insomma, anche questo richiede un certo lavoro. E mi piace che questo lavoro possa essere ottenuto utilizzando carte tipo questa driade, che ogni turno ci metterà in gioco una pedina, aumenta i permanenti che abbiamo, ad esempio. Non è una cosa così da scartare, non è una cosa da sottovalutare, voglio dire, non è la devozione, però non è nemmeno l'energia, per fortuna. Ok, ora riordino un attimo le idee, almeno per girare il video sui tribali. Ne riparliamo domani, spero con le immagini in italiano, e spero con nuovi spoiler. Al prossimo video.